Musica Ciao, siamo gli alunni della classe terza A della scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto in provincia di Treviso. Insieme alla nostra professoressa Pierina Carnelos abbiamo accolto la proposta della provincia di Treviso. Di partecipare all'iniziativa della sicurezza in internet spiegata dai ragazzi. Noi ragazzi abbiamo deciso di realizzare questa guida sotto forma di breve filmato e di indirizzarla a genitori ed adulti in generale. Ci siamo interrogati aiutati dalla nostra insegnante e dagli operatori della provincia di Treviso su come usiamo internet, su quali sono i rischi della navigazione, sulle possibili strategie per ridurre questi rischi, sulle caratteristiche che doveva avere una guida, esaminando anche quelle esistenti. Ed oggi siamo qui a parlare con voi Del meraviglioso mondo di internet! Dai, non fate quella faccia! Voi genitori siete talvolta colti dal panico quando immaginate i vostri figli alle prese con internet. Non è che non vi capiamo e sappiamo anche che è perché ci volete bene che vi preoccupate per noi. Ma siccome molto spesso sono le cose che non si conoscono a fare più paura, abbiamo pensato di raccontarvi cos'è per noi internet, come lo usiamo e come lo viviamo. Potrebbe essere il primo passo per una bella avventura insieme. E poi, diciamo la verità, a noi piace navigare in internet e quando ce lo proibite e non ne capiamo il motivo, ci arrabbiamo. Una soluzione ci sembra quella di iniziare a parlarne insieme. Cerchiamo informazioni su qualsiasi argomento. Scarichiamo canzoni, film e giochi. Chattiamo con gli amici che incontriamo di persona, con quelli in cui facciamo amicista nei blog e che non incontriamo di persona. Cerchiamo materiale per le ricerche di scuola. Guardiamo e votiamo filmati e video divertenti su YouTube. Parliamo al telefono con Skype. Giochiamo con i giochi gratis online. Scarichiamo sfondi per il computer. Leggiamo i giornali online. Cerchiamo i luoghi dove andare in vacanza. Guardiamo i luoghi geografici dall'alto con Google Earth. Scarichiamo gli aggiornamenti per il computer e le espansioni per i giochi. Creiamo i nostri blog. Acquistiamo alcuni prodotti. Qualche volta, quando gli adulti non ci vedono, consultiamo siti pornografici. Che siti visitiamo? Motori di ricerca come Google, Virgilio, Libro. Siti di filmati e musica come YouTube, Megavideo e Dada. Siti di personaggi famosi di cartoni animati come Cartoon Network o Disney Channel. I siti delle nostre scuole del cuoio, U.S. Channel, Milan Channel, Inter Channel e Benetton Basket. Caselle di posta elettronica come Gmail, Hotmail, Libero e Yahoo. Social Network e Community come Facebook, Netlog e MySpace. Siti da cui possiamo scaricare giochi e aggiornamenti per il computer. Siti come Flash Game, siti della Apple o della Microsoft. Consultiamo siti per ricerche scolastiche come Wikipedia e molte altre enciclopedie virtuali. Siti per acquisti online come eBay o i siti di marche e negozi. Sappiamo bene che navigare in internet comporta dei rischi, ma è anche vero che sapendo individuare questi rischi, possiamo trovare delle strategie di comportamento per ridurli o addirittura eliminarli. All'inizio è difficile, ma un po' alla volta diventa più semplice e potrebbe anche essere divertente provarlo a farlo insieme. Mica navigare insieme, eh? Questo potrete farlo con i bambini più piccoli, ma sarebbe bello parlare insieme di queste cose e confrontarci su vari rischi e strategie che troviamo. Ad esempio, in internet può succedere di incontrare, anche senza volerlo, siti, giochi e filmati pornografici o comunque non adatti a me. In questo caso posso chiudere la finestra o chiedere ai dito qualcuno. Di ricevere email di phishing, cioè email usate per sottrarre informazioni personali. In questo caso posso scaricare sul mio computer un antivirus che mi protegga anche dal phishing oppure non aprire l'email se non conosco il mittente e comunque non inserirne dati personali come il nome, il cognome, la data di nascita, il numero della carta di identità o codici vari come quello della carta di credito. Di essere attaccati da virus che blocchi uno sistema operativo, che cancellino i miei dati o che diffondano i miei dati o altri virus ai miei contatti. In questo caso posso informarmi sui antivirus più potenti, scaricarli in altri virus e aggiornarlo di continuo e non visitare mai siti a rischio come ad esempio siti in cui ti invitano ad entrare per scaricare giochi gratis che normalmente sono a pagamento. Di entrare in contatto con persone che chiedono informazioni private o foto di me o di miei amici. In questo caso posso non rispondere e rifiutarmi di inviare ciò che mi ha richiesto. Di fare amicizia con persone che dopo un po' mi chiedono di incontrarci personalmente. In questo caso posso scegliere di non incontrarli o di incontrarli ma di non andarci da solo. Di essere attirati da promozioni di vendite che in realtà sono delle truffe. In questo caso posso dubitare della veridicità delle offerte, se sono troppo vantaggiose, per esempio tutto 2 euro, e di vedere il prodotto prima dell'acquisto. Di pagare un acquisto con la carta di credito e di vedere prelevato dal mio conto un importo superiore a quello che io ho autorizzato. In questo caso posso usare una carta prepagata, in cui carico l'importo esatto, così non possono prelevare più di quello che io ho stabilito. Di trovare informazioni non attendibili che però lo sembrano. In questo caso posso consultare altri siti sull'argomento o altre fonti diverse da internet, come ad esempio i libri, e verificare se le informazioni che trovo sono coerenti tra loro. E questo è solo quello che è venuto in mente a noi. È finito il nostro tuffo insieme nel mondo di internet. Siete un po' più tranquilli ora? Ah, volevamo dirti un'ultima cosa. A dire il vero, noi non consultiamo le guide per la navigazione in internet, perché ci sentiamo già molto esperti. E certe volte voi ci sembrate proprio imbranati. Ma quando abbiamo un problema, o siamo nei pasticci, se non ci sentiamo giudicati o se non abbiamo paura di essere puliti, voi siete le prime persone a cui vorremmo chiedere aiuto. E poi, siamo così esperti? Imparando ad individuare i rischi e le strategie, lo possiamo diventare sicuramente di più. Grazie a tutti! Ciao! 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 Perdi o meno? Sonida o meno? Sonida?